Ben ritrovati, buon pomeriggio, chi si è collegato in questo momento? Io sono Daniela Bello e sono in compagnia della nostra Lara Rancati. Ciao cara, buon pomeriggio. Ciao cara e salutiamo anche tutte le amiche, tutti gli amici che sono a casa con noi ci stanno seguendo, ma vi faccio vedere anche la nostra regia, anzi la saluto. Scollagene, meraviglioso, molto morbido, vi faccio vedere la differenza che c'era sulla mano del siero, che c'era prima e il siero che c'è adesso. Vedete che non cola? È più compatto questo, più ricco. Esatto, non cola. Perché lo stendiamo, lo facciamo assorbire bene? Perché deve andare proprio a fare un'impalcatura, deve andare proprio a stare lì, fermarsi e cominciare a lavorare, cominciare a rendere la pelle elastica, a imbibirla. Allora, per la nostra amica Gloria che chiede buongiorno ragazze, ho 49 anni, pelle disidratata, concedimenti, quale trattamento mi consigliate? Questo può essere l'ideale? Questo può essere l'ideale, o questo, o l'ambra, ma questo qua va benissimo, perché hai siero 24 ore, la crema 24 ore viso, collo e decoltè e hai il contorno degli occhi 24 ore, completo. Gloria, se vuoi puoi anche acquistare questo, sì, appunto, va benissimo. Che va benissimo. Va benissimo. Amo il collagene, io ogni volta che provo e utilizzo un prodotto al collagene vedo la differenza.